Allora, la tua Fano vuole ricompattare un po' le fila, il senso del discorso è un po' questo. Sì, sabato mattina abbiamo presentato il nostro slogan, riprendiamoci la città, perché sentiamo forte l'esigenza dei fanesi di riprendersi la vita politica della nostra città. Purtroppo questa amministrazione che doveva rivoluzionare la città non l'ha fatto in questi anni e vediamo ancora oggi che stenta a farlo. Quindi i tre macro temi che abbiamo lanciato come la tua Fano sono la sanità con la revisione completa del piano regionale sanitario, l'urbanistica, quindi lo sviluppo economico, perché le aziende fanno sempre più fatica e continuano a chiudere e non c'è impulso a parte l'amministrazione, e il sociale dove veramente le persone sono sempre più in difficoltà. Ultimo tema, ma forse anche uno di quelli più sentiti dalla gente, è la cura della città, perché effettivamente vediamo rotatorie, parchi pubblici con i bambini che giocano con l'erba alta mezzo metro, cimiteri abbandonati, abbandono generale. Questi sono i macro temi da cui noi vogliamo partire. L'atto Fano c'è perché noi non abbiamo schieramenti, non siamo né di destra né di sinistra né dei 5 Stelle. I nostri iscritti sono fanesi che vogliono curare la nostra città. Quindi noi ripartiamo con un'assemblea pubblica nel mese di ottobre, che invitiamo i fanesi a partecipare, perché c'è bisogno della partecipazione di tutti per riprenderci la nostra città. Quindi la segretaria, Francesca Cecchini, il coordinamento è al lavoro, questi anni ha fatto un lavoro secondario, noi ci siamo, io con la mia attività in Consiglio Comunale, insieme anche agli altri colleghi, stiamo facendo un bel lavoro di opposizione propositiva, ma anche criticando quando le cose purtroppo sono sotto gli occhi di tutti e non vanno.